Tra pochissimo andremo al campo di allenamento dove ci sta aspettando Igor Protti. Nella storia del calcio italiano sono pochi i giocatori ad aver lasciato il segno oltre che per i loro gol anche per il carisma e la personalità. Igor Protti è uno dei pochi ad esserci riuscito vincendo la classifica cannonieri di serie A, B e C con 240 gol in carriera. Basterà questo per battere Gennaro? Igor! Ma devo fare casino qua, Igor! Oh, quello è Igor Protti, eh? Salutate Igor Protti, capite che sei da pallacanestro voi. Non prendetelo sul serio, vedete com'è il stile. Adesso è uno che hai vissuto a palleggiare per mangiare questo. Io, vuol dire minimo, ne fa 4-5 mila. Di palleggiare con una maglia, questa maglia qua, del Livorno, fluo. Da calciatore ho lasciato il Livorno nel 2005 in serie A. Altri dal 2005 al 2017 l'hanno riportato in serie C e adesso hanno richiamato il coglione della situazione in serie C che sono in serie C. Immagino una scena, closing Livorno Calcio. Signori siamo di nuovo in serie C, che facciamo? Chiama i golprotti. Voi segnavate, c'era il trenino del Bari. Ci svegli chi è che l'ha istituito. Arrivò Guerriero dalla Colombia. Quando faceva il gol risultava andando alla bandierina mettendo in serie a 4-3. Il modo di risultare in Colombia era quello da quattro zampe, sì, ma tutti sparsi. Loro mi chiamavano i cagnolini, ognuno per conto suo. Messo il primo, gli altri si andarono ad accodare creando questo trenino in maniera assolutamente casuale. Igor, vuoi palleggiare bs di me? Voglio palleggiare bs di te. Ok, 15-20, il massimo che faccio. Quali 3, 2, 1, Igor pronto. 140-20, Igor Prosti. 149, Igor Prosti. Quindi, Igor, io ti chiedo, è la tua rubrica adesso che hai perso una scommessa. Chi possiamo chiamare? Poi mi sembra che Lucarelli va bene andare a Messina. Sì, sì, vado a Messina. E ci proviamo. Ci proviamo? Mio padre è tuo fan. Prendi la figurina di Igor Prosti e fagli mettere il nome, il cognome e l'Iban. Vino, un abbraccio. Di lusso. E' pronto parlo con Cristiano Lucarelli? E allora preparati che sto arrivando. Cristiano, sono Gennaro. E allora preparati che sto arrivando. Aspetta. Eh, ho vinto! No! Ho vinto! Per contanni! Ho vinto! Sono in merda, ora. Ho vinto! È rimasto... Ho vinto! Si è rimasto un bani, se ne ho sangue sei rimasto! Grazie, grazie, grazie. No!